Ecco come insegnare al proprio cane a dipingere, vediamo il mio come se la caverà. Prima di tutto, dobbiamo scegliere i colori delle tempere che vogliamo utilizzare. Ehi, Yuko, ma che fai? Ma non si mangia! Ehm, dicevamo. E quando la vostra tela sarà simile a questa, ovvero ci saranno colori sparsi a caso ovunque, sarà pronta per essere protetta all'interno di una busta con chiusura ermetica. A questo punto, non vi rimane che spargere di pappa ovunque e godervi lo spettacolo del vostro amico a quattro zampi pittore. Ma che cos'è tutta questa bontà? Beh sì, potrebbe anche piacermi questa storia di fare il pittore. Anzi, perché non ci apriamo un'intera galleria d'arte? Ti pingo io. Guardiamo come è venuto, Yuko. Sì. Speriamolo un po'. Oh, che bello, Yuko. Bravo, patato. Per caso si mangia anche questo? Oh no, che schifo.